60% della potenza, va a vuoto praticamente vabbè, ora siamo in discesa vediamo in salita come va in salita vai vediamo come va in salita 1300 giri che cazzo è fatto la frittata abbiamo fatto non poteva aspettare non poteva aspettare non poteva aspettare non poteva aspettare sono più non poteva aspettare Grazie a tutti